ciao amici di gorizia tv eccoci qua grande pioggia arrivata con l'anti e piano 26 9 2022 circa mezzanotte è arrivata cari amici guardate che abbondanza di acqua a presto Eh, vediamo il tuono. Eh, c'è stato un tuono, ma non tanto forte, comunque. Senti che roba? Che tuono. Un po' lungo, no? Questa è tutta l'acqua che mancava, quest'estate, ed è riva tutta adesso. Vediamo il tuono. C'è un tuono leggerino. C'è un tuono leggerino. E poi, vediamo il tuo tuono. Questo deve essere un bel tuono, vediamo un po'. questo non è male oggi ci sono i tuoni adesso chiudo perché mi arriva l'acqua in faccia ciao a tutti